Musica Ben ritrovati su Poker Italia 24 ad una nuova puntata di Come Giochi. Ormai siamo arrivati alla terza edizione e visto il successo delle precedenti, quest'anno vogliamo farvi un regalo. Infatti c'è una novità, una grande novità, perché ci verranno a trovare degli amici del mondo dello spettacolo e dello sport, ovviamente appassionati di poker. E proprio oggi ho l'onore di presentarvi Jimmy Maini. Lui lo conosciamo benissimo, è un ex calciatore, lui ha giocato nella Roma, nel Vicenza e anche nel Milan e adesso allena gli esordienti della Roma. Ciao Jimmy. Ciao Diletta, ciao a tutti. È un piacere che tu sia qui, insieme a noi. Sei pronto ad essere analizzato dai nostri professori? Sì, assolutamente sì, vedo già loro estremamente frenetici di giudicarmi, speriamo che non siano troppo cattivi. Sì, non vedo l'ora di poter giudicare un VIP, perché lo possiamo dire, quest'anno la novità è proprio che ci sono dei VIP insieme a noi. Io ti volevo chiedere una cosa, tu sei un calciatore, ma ci sono tantissimi calciatori appassionati di poker. Sì. Chi è il più bravo, secondo te? È una domanda sinceramente non facile da una risposta, anche perché credo che per quanto riguarda l'aspetto calcistico ci sia le qualità, che sono fondamentali chiaramente, oltre ad altre componenti. Mentre per quanto riguarda l'aspetto puramente del gioco pokeristico, sì, anche la fortuna è un aspetto importante, non me ne vogliono qui i nostri giudici. Vabbè, anche nel calcio ci vuole un po' di fortuna, diciamo un po' nella vita in generale, la fortuna non guasta mai, ma chi è il più forte? Ma non lo so, io so che giocano molti, magari nei lunghi ritiri si diventano appunto a giocare online, però ecco fare un nome non è facile. Uno a casa. Ma forse dico Bobo Vieri, che so che si sta cimentando molto in questa nuova hobby. Va bene, allora vediamo se Bobo Vieri è più forte dei nostri professori, anche se credo di no, vieni con me che te li presento subito, ma ormai li conosciamo tutti benissimo e sicuramente voi conoscete il nostro Jimmy, prego, accomodati. Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti. Te li presento, abbiamo come primo professore Jackson Genovesi, Andrea Dato e ovviamente non può mancare Flavio Ferrari Zumbini, bellissimo come va Flavio. Grazie. Allora mi raccomando, in bocca al lupo, torno tra poco. Mi raccomando a voi eh, ragazzi. Mi raccomando. Beh oddio, già sei partito, io ti vorrei fare una battuta tipo pure a calcio, la palla rimbalza, quindi non è proprio... Lo sapevo, ho bocca al lupo, infatti lo ho fatto, ho dato un assist, no? Sicuramente c'è più fortuna in questo gioco, una qualità ce l'abbiamo anche noi, non abbiamo le moviole, per cui difficilmente ci sono contestazioni. Questa è una grande cosa. La mano è di Cash Game, 100 blinds a tua disposizione, i bui sono 0,51, siete in 6 presenti al tavolo, il giocatore è under the gun, rilancia fino a 3, queste sono le tue carte, e decidi di fare call. Quindi il pot è 6,50 euro, questo è il flop, il giocatore è under the gun e decide di puntare 5. Ti lascio la parola, che cosa fai? Sicuramente race. Quanto? Quanto era il pot? Il piatto era 6,50, lui ha puntato 5. 6,50, 5... Arrivo a 12. 12. Colla da parte del tuo avversario, quindi 24,6, il pot è 30. K di picche, check. Parli tu. Continua Sean Bet, e alzo ancora la posta. Quindi il pot adesso è 12, abbiamo 30. 22. 22. Coll da parte del tuo avversario, il pot è 74, questo è un 2, la parola è a te. Tu se ho fatto bene i conti, hai 63 dietro? Mi rimangono 63? Sì, il pot è 74. Sì, il pot è 74. Avrei puntato una cinquantina, ma vado lì, non ha senso rimanere con 20 dietro. Fold, da parte del tuo avversario. Andiamo a scoprire le carte che ha il tuo avversario, e sono esattamente le tue. Quindi vince il piatto. Siete stati buoni, eh? No, cominciamo solo adesso. Vediamo. Prego. Vai Andre, aspetta direi che siamo stati buoni, e provo a ripeterlo più tardi. Allora, preflop hai chiamato al big blind, sembra una mano più che lecita per difendere il buio. E al flop, dopo il tuo check, l'avversario va in continuation bet e tu resi. Però mi ha colpito molto il fatto che tu hai detto sicuramente rilancio. In generale, sicuramente nel poker c'è poco, c'è poco di sicuro. Quindi qua si può sia rilanciare che chiamare. E anzi, se ti do dire, tra le due la più standard è forse il call rispetto al rilancio. Perché? Perché una volta che rilanci, difficilmente riesci a trovare una mano peggiora, maggiore della tua, che ti chiama tutte e tre le puntate. Quindi il raise al flop, il bet al turn e il bet al river. Quindi diciamo che stai impostando un bluff, se vogliamo così. Per ottimizzare la mano. Esatto. È meglio fare check call al flop, cioè è meglio. È più standard fare check call al flop, turn probabilmente check call al aree e river valutare. Nel senso che la tua mano è una mano da due street di valore, diciamo, in generale, non da tre. Però il tuo raise è assolutamente lecito, soprattutto contro un certo tipo di avversario a cui non piace troppo passare. E una volta che riesci al flop, va bene, il bet al turn. L'all in a river, guarda un po', è un po' borderline. Nel senso che la tua mano sta proprio nel limbo. Nel limbo tra il bluff e il valore, ok? Nel senso che non mi stupirei se il tuo avversario ti chiamasse solo con una mano migliore della tua, come asso K, 7-7. Mi piace un po' più il check dell'all in. Un po' il check. L'ho spinta un po'. A river la tua mano cambia completamente, ovviamente, no? Certo. Con quel 2 e la donna, no? Perché, esatto, adesso hai un asso come un qualsiasi altro asso. Cioè, hai lo stesso valore, no? Con la coppia a tavola e il K. Quindi il tuo asso donna non vale più come un asso donna, ma vale uguale a un asso 3. Hai ragione, certo. Al flop non mi dispiace troppo il raise contro alcuni giocatori. Proprio perché spesso e volentieri si tende a fare call con un asso, quando raise l'asso non te lo danno. Cioè, pensano che tu non lo abbia, quindi non è terribile. Il bet al turn va bene e preferisco anch'io il check al river, piuttosto che all in. Adesso, in questo caso, è successo che hai affoldato la tua stessa mano, quindi è andata bene per te, perché avresti diviso il piatto e invece la fine hai vinto. Domanda, posso farvi una domanda? Domanda, il raise chiaramente da big blind, visto che lui era under the gun, ci stava. Si può fare, si può fare. Il raise da big blind? Sì, sì, si può fare. Il fatto è che poi ti trovi tutta la mano fuori posizione e non sai che mano ha all'altro. Un tempo su questo flop, quando appunto si check-raiseva, come hai fatto tu, si diceva che uno voleva vedere dove stava nel colpo. Cioè, spesso fai anche la size che hai scelta abbastanza particolare. Avrei preferito un call, ma va abbastanza bene. Fai l'esercizio alle volte di metterti nei suoi panni. Cioè, questo è un giocatore che ha aperto under the gun, la posizione più forte al tavolo, ha ricevuto un check-raise sul flop da parte tua, punti anche turn e vai all'in sul river. Sei riuscito a farli passare a Sodonna, che è naturalmente una mano a cui hai rubato metà piatto, però in effetti ti chiameranno sempre solo mani più forti della tua. Nel senso, la rappresentazione della tua mano è stata di forza totale. Quindi difficilmente riesci a estrarre valore da altre mani andando all'in sul river. Comunque, adesso andiamo alle votazioni. E allora siamo arrivati al momento della votazione, caro Jimmy, sei preoccupato? No. Un pochettino sì, poi io con i voti non avevo un gran feeling quando giocavo, quindi vediamo qui. Speriamo che loro siano sempre imparziali. Vediamo. Come c'è io, Jackson? Allora, io per non smentirmi ti do un 4, più che altro per l'all in al river e quel sicuramente race al flop. Jackson? Ma si pesano anche le virgole qui, vedo. Io ho un bel sei politico perché errori gravi non li hai fatti e il senso del gioco più o meno l'hai capito, quindi la sufficienza te la meriti. Grazie. Guarda, sono per il senchi, ho promosso, quel sicuramente in effetti lascia perplessi anche l'all in al river, ma in linea di massima mi hanno giocato bene. Soddisfattissimo. Eh, dai, vabbè, lui, Andrea, devi sapere che è sempre così. Non lo so, lo so. Ti devi preoccupare se ti dà un voto alto, quindi vuol dire che gli sei piaciuto. Vuoi dire qualcosa ai nostri professori? No, è stato un piacere, sicuramente farò tesoro di questi consigli e magari la possibilità di rincontrarli su un tavolo. E sicuramente li batterai, ne sono certa. Ragazzi, grazie, è stato un piacere. Grazie a te. Ciao, Jimmy. Perfetto, Jimmy, hai salutato la nostra commissione, allora possiamo andare, vieni con me perché ti dobbiamo dare ancora un altro piccolo regalino. Lo possiamo chiamare così per ringraziarti di essere stato con noi e questo te lo offre. Grazie. Glabbing, questo è per te, ed è un piccolo gadget. Grazie mille, un saluto a tutti e arrivederci presto. Senz'altro, grazie Jimmy per essere stato con noi. Io vi saluto anche a voi da casa e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.